ecco la partita di sede eeeh un'altra scusa te guarda che bello cosa si dice? Michela a me mi ha fatto il video mi ha fatto il video mi ha fatto, sta a fare il video, di qualcosa ti ne so un po eh, ci ne so un po e di riparlo a dove stiamo? di un po' la città, le cose, questo è il mondo ma la margherita? a dove? che paese? Pontini cosa ne pensi di Pontini? tenne a merda tenne a merda tenne a merda oh, lo fa vedere no, ma sta a merda io senti che ho i vatici eeeh eccolo, guarda guarda, guarda, guarda cosa sta facendo? eh, mi sto a depilare il culo come fa Michelangelo tu sei bravo con la vasella pure con la vasella, porca data tu sei bravo ti ho detto che c'è i bigotini in testa non sono normali questi? fai, lo evo, ti metti in dito molti sono molto normali basta tu vuoi lo cava? sto a un po' lino, cavolo ciao